Il valore delle nostre azioni risiede nella capacità di realizzarle insieme e di condividerne i successi. Camminiamo sul territorio seminando nuova vita. Sosteniamo chi, come noi, crede nell'importanza dell'inclusione e nel valore della ricerca. Ascoltiamo la voce dei più giovani per l'ispirazione del domani e di chi sceglie di cambiare per un futuro migliore. La nostra energia sono le comunità e le persone. Un'energia che accende perché condivisa. Questa è Estra. Scopri il nostro bilancio di sostenibilità su estra.it. Estra, per un presente sostenibile.